Lei è Lutjen, che io chiamo anche Musa, un lupo ciecoslovacco da sempre abituato a viaggiare. Lui è Asink, un fuoristrada attrezzato per qualsiasi tipo di viaggio. Assieme arriveremo in luoghi lontani attraverso strade, percorsi inesistenti, deserti di sabbia, spiagge cristalline e panorami da brivido. Stringeremo amicizie inaspettate e viaggeremo fino all'ultima coordinata GPS. Passeremo momenti di gioia e di sconforto, ma sempre con lo spirito del viaggiatore, cercando di trovare l'energia giusta che ci guiderà fino al ritorno a casa. E dimenticavo, io sono Raffo e sono nato per viaggiare. In viaggio con Lutjen.